Francesca, cosa stai leggendo? Sto leggendo la storia di Lancilotto e Ginevra. Ginevra, la moglie di Ray Arthur, si innamora del cavaliere. Lancilotto perché di Galeotto. Uffa, che noioso. Comunque ti voglio incontrare il mio figlio. Lui è molto intelligente e bello. Ciao Paolo! Ciao Drunk Doctor. Questo è mia moglie bella. Pia Cerro di Canoccio. 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 Ti piacerebbe unirsi a me? Sì, sto leggendo Lancelotto e Ginevra. Ti piacerebbe unirsi a me? Sì. Sì, mamma Paolo. La finestra, pronto! Gio Gio Gio, posso spiegare? Mia moglie e mio fratello, Alduterio, lo tradimento. Ma... Questa è la sua colpa Guarda quello che hai fatto Spero che vi divertite Nell'inferno insieme Lo scautò Io ci sono Il territorio Animo L'amorico Un mare Di Eviltere Grazie a tutti.